Si sono riaperti questo lunedì mattina i cancelli dei cimiteri e anche a Pesaro in tanti si sono recati a portare un saluto o un fiore ai propri cari. Nel luogo in cui più di ogni altro continuano a scorrere dolore e sofferenza, cicatrici indelebili lasciate dall'epidemia coronavirus, ora l'accesso è libero ma anche nei 12 cimiteri del territorio comunale di Pesaro l'accesso continua ad essere contingentato e sempre nel pieno rispetto delle regole, come evidenza il responsabile di Aspes Luca Pieri. Gli orari sono dalle 7.30 del mattino alle 19 del pomeriggio, le regole di rispettare sono quelle della convivenza civile che in questo periodo di emergenza ci detta, quindi il mantenimento delle distanze sociali, mascherina possibilmente all'entrata del cimitero, guanti se possibile, disinfettanti in tasca, insomma mantenere le distanze che è la cosa più importante. Abbiamo invitato tutti a cercare di venire in forma singola, piuttosto che con la famiglia insomma perché diventerebbe complicato, però abbiamo visto che in queste prime ore in tutti i 12 cimiteri del comune di Pesaro problemi non ne abbiamo avuti, la gente è rispettosa, la gente ha capito che questa situazione può essere una situazione che se gestita ci porterà fuori dell'emergenza, altrimenti rischia di far ripartire il contagio e vediamo che il comportamento è un comportamento sano che in qualche modo è quello che chiediamo noi dal punto di vista istituzionale.